Nuovi particolari sull'indagine relativa al maxisequestro di droga avvenuto al porto di Salerno nel giugno 2020, quando nello scalo vennero rinvenute oltre 17 tonnellate di sostanze stupefacenti tra Captagon e Ashish, occultate in containers provenienti dalla Siria e diretti in Arabia Saudita e Libia. I finanzieri di Salerno hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Taher Al-Khayali, cittadino siriano 63enne allo Stato latitante, indagato per traffico di stupefacenti. A lui si è arrivati nel corso delle indagini preliminari sulla vicenda che aveva già individuato due persone ritenute responsabili dell'intermediazione logistica dei carichi di droga siriani e già raggiunti da misura cautelare nell'agosto 2021. Si tratta di Alberto Eros Amato, 47enne di origini siciliane ma residente svizzera, recentemente condannato dalla Corte d'Appello a 10 anni e di Giulio Antonio Apicella, spedizioniere doganale di 51 anni per cui è ancora in corso il processo a Salerno. Ad Al-Khayali si è arrivati durante le indagini per identificare il mittente della droga attraverso l'analisi di alcuni messaggi scambiati verosimilmente tramite WhatsApp e Telegram con Amato, a cui sarebbero state fornite istruzioni sulle procedure da seguire, con specifico riferimento alla pratica del tramacco, volta ad evitare le ispezioni doganali. Il nome di Al-Khayali in particolare è emerso grazie alla cooperazione tra le autorità italiane e tedesche attorno all'ipotesi dell'esistenza di una rete criminale dedita al traffico internazionale di Capdagon vicina alle autorità siriane. Durante un interrogatorio tenuto ad Essen in Germania ad aprile 2022, uno dei principali indagati del procedimento tedesco ha fornito informazioni ritenute significative a carico di Al-Khayali.